Mmmmm! Ah! Wow! Per gli dèi. Che sia un messaggio mandato dal cielo. È come se Rha fosse sceso fra di noi. Wow! 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 La sfera di fuoco ha rivelato l'entrata di questa tomba. È un segno degli dèi. Che si riferisca a una meridiana. Chissà. Questo numero sembra importante. Questo numero sembra importante. È un segno. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Grazie a tutti.